Procediamo con l'appello nominale. Tralli, assente. Scarola, assente. Bianchi, assente. Rondinone, assente. Montemurro, presente. Taratufolo, assente. Presente. Alza la mano, Taratufolo. Paradiso, assente. La Polla, assente. De Palo, presente. Massari, assente e giustificato. Acito Vincenzo, presente. Massenzio, assente. Paterino, assente. Sardone, assente. Morelli, presente. No, Morelli, assente. Morelli, assente. Siamo? Lionetti, presente. Fiore, presente. Cotugno, presente. Lamacchia, assente e giustificato. Morea, presente. Tosto, assente. Perniola, assente. Angelino, assente. Tortorelli, assente. Vicciello, presente. Toto, presente. D'Andrea, presente. Caputo, presente. Andezza Carlo, assente. Manuello, assente e giustificato. Cosola, assente. Cosola, assente. Mazzilli, presente. Pedicini, presente. Nicoletti, presente. Rosmarino, presente. Sono presenti 20 consiglieri, la seduta è valida. Sono presenti 20 consiglieri, la seduta è valida. 20. 20. Gli ho aperta la seduta, parola al consigliere Pedicini. Grazie, presidente. Constato che sono 20 consiglieri, il numero minimo per la maggioranza, ma soprattutto si accerta la grave assenza. Uno del presidente del consiglio, assenza che non so fino a che punto è giustificata, si è stata data comunicazione dell'assenza del presidente del consiglio e del sindaco. Noi in questa situazione, che ritengo una situazione gravissima per la maggioranza, soprattutto per l'assenza del sindaco, non intendiamo... Va bene. Io credo che in una seduta che riguardi il bilancio, ogni assenza sia ingiustificata. Pertanto, presidente, riteniamo di non dover sostenere il numero legale in aula e usciremo dall'aula facendo mancare il numero legale. Grazie. Grazie, consigliere Pedicini. Sono altri interventi? Sta entrando il consigliere Paradiso. Chiedete di intervenire il consigliere Tuto. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Io condivido l'intervento del capogruppo del PDL e in più chiedo la verifica del numero legale, presidente. Grazie, consigliere Tuto. A questo punto, anche io che faccio parte dell'opposizione, esco e do cambio. Grazie. Prego, consiglieri, di restare seduti. Rifacciamo l'appello per la verifica del numero legale. Grazie. Siamo? Sì. Adduce. Assente. Andezza. Presente. Alba. Presente. Trombetta. Presente. Rubino. Presente. Cotugno. Assente. Tralli. Presente. Scarola. Assente. Bianchi. Assente. Rondinone. Presente. Montemurro. Presente. Taratufolo. Presente. Paradiso. Presente. La Polla. Assente. Depalo. Presente. Massari. Assente. Acito. Presente. Massenzio. Assente. Paterino. Assente. Sardone. Assente. Morelli. Assente. Leonetti. Presente. Fiore. Presente. Cotugno. Presente. Lamacchia. Assente. Morea. Presente. Tosto. Assente. Perniola. Presente. Angelino. Assente. Tortorelli. Assente. Vinciello. Assente. Toto. Assente. D'Andrea. Assente. Caputo. Presente. Andezza Carlo. Assente. Manuello. Assente. Cosola. Assente. Mazzilli. Assente. Pedicini. Assente. Nicoletti. Assente. Rosmarino. Assente. Assente. Per mancanza del numero legale dichiaro chiusa la seduta. solo per i consiglieri assenti riceveranno a casa la seconda convocazione per il 2 ottobre. Sempre alla medesima ora. Seconda convocazione. 17 presenti e 24 assente. Assente.